Il 1.100 è l'anno di fondazione del castello. A questo simbolo, che è anche il nostro logo, abbiamo deciso di dedicare la nostra riserva, 1.100, e anche il nostro wine club 1.100, una sala rotonda nella nostra cantina con delle piccole cellette dove i nostri wine members possono far invecchiare i loro vini più prestigiosi. 1.100 è la nostra riserva, viene prodotta solo nelle migliori annate. L'ultima in commercio è la 2010, venivamo dalle grandi 2007, 2006, 2004. Quest'anno abbiamo una nuova etichetta dedicata alla torre nel borgo. Le uve provengono da un vigneto chiamato appunto 1.100. Ha uno stile molto classico, fa solo affinamento in botte grande. Grande eleganza, stile classico. Quello che secondo me fa veramente grande il 1.100 è la nota balsamica, note mentolate che abbiamo al naso. Data altitudine, dato l'utilizzo del legno grande, diciamo è rarissima questa cosa nei brunelli. Sicuramente il 1.100 è un vino molto scenico, si presenta con cassette di regno singole, viene sfilato il coperchio, lo scrigno si apre e troviamo al suo interno la bottiglia avvolta da una carta velina fissata con un sigillo, con scritto 1.100. Quindi bella presentazione, grande sostanza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.